Riposa il Chieti per la quarta giornata di campionato in seconda divisione e per le altre tre compagini abruzzesi è già tempo di esami di riparazione, vedi Giulianova e Celano, e di maturità il caso dell'Aquila. I rosso-blu di Ianni, ancora imbattuti e reduci dal successo, striminzito ma pesante sulla Vibonese, si recano sul campo dell'Arzanese, che è partita ancora meglio con due vittorie ed un pari. Insomma, banco di prova importante per Giulio e compagni, proprio l'Arzanese ha fatto vedere di che pasta è fatta mercoledì a Giulianova. I giallorossi vanno a caccia del riscatto in casa del già penalizzato di due punti Fano. Senza lo squalificato Carbonaro, il tecnico De Patria ha già sottolineato la carenza di Ander all'altezza nell'organico, un problema mica da poco, considerato che almeno tre classe 91 devono obbligatoriamente far parte dell'undici titolare. Intanto potrebbe essere la volta buona per l'esordio del centrocampista La Penna, finora mai utilizzato nello scorcio iniziale di stagione. In porta tornerà Claudio Merletti, mentre al centrocampo Rinaldi dovrebbe prendere il posto di bontà. E con il gavorrano al piccone, anche il celano cerca il primo exploit. Lo stop allo scadere di Aversa non è andato proprio giù a mister Facciolo. La squadra è giovanissima, forse troppo, c'è bisogno di tempo. Assente l'infortunato Croce, restano in forze Bianciardi e D'Angelo. Gli arbitri Vincenzo Ripa di Nocera Inferiore Per Fano Giulianova, celano Gavorrano a Gianluca Ceccarelli di Rimini, Arzanese L'Aquila a Valerio Marini di Roma.